Green Pass obbligatorio diventa realtà. Il Governo ha approvato il decreto e dal 6 agosto tutte le persone a partire dai 12 anni dovranno mostrarlo per poter accedere ad alcune attività, dai ristoranti, bar, non al bancone o all'aperto, alle palestre, piscine e agli eventi, per assistere o partecipare a competizioni sportive, spettacoli all'aperto, fiere e congressi e poi ancora per accedere a cinema, ai teatri, centri termali, parchi divertimento e sale gioco. Basterà però per poter avere il Green Pass una sola dose di vaccino o un tampone negativo entro le 48 ore o con certificazione di fine malattia nei 6 mesi precedenti. Molti i vicentini favorevoli alla decisione del Governo. Sicuramente è un bene perché a livello di Covid è un aiuto e se no ovviamente non usciamo più. A parer mio non c'è altra via d'uscita. Con questi casi che sono successi con la variante Delta sia importante avere molte sicurezze comunque. Quindi sì per il Green Pass allora? Sì, credo di sì. Sono molto favorevole al Green Pass, anzi io sono vaccinato e tutto e quindi penso che sia giusto per tutti. Sono in tasca, l'ho scaricato tutto, sono d'accordo su utilizzarlo, è anche l'obbligo di utilizzarlo. Quindi anche andare al ristorante e mostrare, cioè ovviamente al chiuso. Un po' eccessivo comunque, certo, serve a guardare tutti gli altri. Non manca però chi invece continua ad essere contrario all'idea. Non sono d'accordo. Perché? Sta distruggendo quel poco di lavoro che era ricominciato. È completamente anticostituzionale, è la fine di tutte le nostre libertà. Non si può vivere in questo modo perché non è legale, è anticostituzionale. Trovo che sia discriminatorio per chi decide, per vari motivi può decidere di non volerlo fare.